Se soffri di mal di testa questo video può esserti di aiuto. Sul viso devi sapere che oltre ad avere 57 muscoli abbiamo anche dei punti di digitopressione. La medicina tradizionale cinese ovvero l'agopuntura ne ha individuati una trentina. Secondo la riflessologia facciale vietnamita invece ci sono più di 600 punti sul nostro viso che premendo sui punti giusti possiamo attenuare dolori e risolvere varie difficoltà o varie problematiche. Ritornando al mal di testa devi sapere che i punti riflessi che riflettono la testa sono qui, si trovano proprio qui circa a metà della fronte, uno dei punti. Poi ce ne sono altri qui sulle tempie e quindi sapendo questi punti cosa puoi fare? Puoi premere e tener premuto oppure picchiettare per uno o due minuti queste zone qui per un minuto oppure anche qui massaggiare per uno o due minuti e massaggiando e stimolando proprio i punti che corrispondono e riflettono alla testa vedrai che il dolore si attenuerà e se vuoi rendere il massaggio un po più piacevole puoi usare una crema balsamica per fare il massaggio. Ciao!